Bravo sei, in silenzio radio. Per tutte le vostre domande e per sventrarci appunto su Warzone e sulla beta di Black Ops Cold War. Poi vi ricordo come sempre mettetevi tra i preferiti il mio sito internet www.amantecnologia.it, primo link in descrizione per tutte le ultime notizie sul mondo di Call of Duty. Partiamo subito alla trailer che ha rilasciato ieri mattina un mini aggiornamento interno che ha modificato la nuova modalità Fireteam, la modalità che è stata appunto introdotta con la settimana 2 di beta. Un update per migliorare le prestazioni e di conseguenza ori nemici in questa modalità di gioco non lasceranno più cadere la loro arma quando vengono uccisi Fireteam, modalità che come avete visto ha preso veramente forte ispirazione da Warzone e da come dicevo ieri dovrebbe essere proprio la base da cui partire come parti della futura mappa della Battle Royale. In queste ori invece si stanno moltiplicando i rumors e i leaks su quello che sarà il futuro di Warzone appunto con l'uscita di Black Ops Cold War. TGR riporta che l'evento con l'esplosione della nuke sulla mappa di Verdansk si chiamerà l'evento rinascita. Inoltre BookThor ha trovato anche nei file di gioco un'icona che conferma questa teoria e possiamo anche notare il razzo della nuke al centro quindi la nascita di una nuova stella con un'esplosione nucleare. Potrebbe essere tutto questo perché come abbiamo visto la Treyarch ci ha fatto capire e ci ha portato con tutti gli easter egg che abbiamo visto nelle settimane passate al Bunker 10 dove abbiamo visto la testata nucleare russa quindi molto probabilmente ci sarà questa esplosione con il cambio mappa. Analizzando le medaglie invece ottenute a fine partite nella beta di Black Ops Cold War appaiono due icone veramente molto strane che non sembrano essere delle vere e proprie medaglie rispetto a tutte le altre al loro interno ma sembrano dei veri e propri emblemi prestigio. È un bug grafico oppure una cosa normale oppure il primo indizio di quello che saranno appunto i futuri prestigi che ormai sembrerebbe essere confermati all'interno del gioco? Vi faccio vedere grazie all'Iker Carpool Gram le prime immagini della nuova macchinetta RCXD che dovrebbe essere presente come variante all'interno del multiplayer di Cold War. Altra notizia molto curiosa invece su Modern Warfare tramite nuove icone trovate nei file di gioco sembrerebbe che siano in arrivo delle modalità multiplayer molto particolari settate all'utilizzo soltanto di alcune categorie di arma. Infatti potrete vedere in alto a sinistra solo SMG quindi solo mitragliette, in alto a destra solo pompa, in basso a destra soltanto fucili da cecchino e in basso a sinistra soltanto armi letali quindi armi corpo a corpo. Chiudiamo il video informativo con due importanti notizie. La prima, il datamire Big Mike ha trovato nei file di gioco il modello 3D degli zombies che saranno presenti nell'evento di Halloween Daunting Begin, l'evento spettrale di Warzone in arrivo il 20 di ottobre e da ieri sera sono attivi nella beta multiplayer i doppi punti esperienza e i doppi punti arma in modo da far salire più velocemente di livello anche i giocatori di Xbox e PC che hanno provato la beta in ritardo ovviamente rispetto agli utenti PS4. Inoltre proprio ieri sera è arrivato anche un aggiornamento della beta sulla versione PC del peso di 190 MB. Oggi vi riporterò sul mio sito internet tutte le patch note completamente tradotte in italiano dei cambiamenti. Questo era tutto quello che volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Noi ci vediamo alle 13.30 in live su Twitch, vi ricordo il mio sito internet, primo link in descrizione mettetelo tra i preferiti per tutte le ultime notizie sul mondo di Call of Duty e noi ci vediamo domani qui su YouTube ore 7 con un nuovo TGCod.